segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te una regione oggettivamente come l'emilia romagna che teori da un punto di vista della capacità lo dico oggi parlo di una gestione di una regione non gestita dal centro destra poi possiamo fare tutte le polemiche comunque che ha una notorietà una nomea di essere una regione ben gestita eppure siamo di nuovo qui a parlare di tragedia di morti e di una prevenzione che non viene fatta i cambiamenti climatici esistono nel senso che sempre meno sono prevedibili fenomeni così forti no abbiamo parlato fino all'altro giorno di siccità oggi ci rito perché fino all'altro giorno i temi ero qua se si erano i servizi dal po e ci collagavamo per far vedere che il po a proposito di un fiume che passa lì era praticamente in secca nonostante siamo nella stagione invernale primaverile allora il tema è veramente di riflessione perché non avviene questa prevenzione perché gli argini non si rifanno perché i bacini qual è la ragione per cui siamo tutti irresponsabili io non credo che il problema sia che siamo tutti responsabili credo che il problema sia molto se del coraggio e della capacità non solo di decidere ma di non avere alibi nel processi amministrativi che arrivano a quella decisione le risorse ci sono perché abbiamo stanziato tante di quelle risorse guardate che troveremo sicuramente in un'intervista come è stata in un'altra recente tragedia avvenuta in un'altra parte della regione sempre su questa vicenda dell'esondazione eccetera che si doveva fare un'argine e non si è fatto perché siamo ancora in attesa dell'autorizzazione della sovraintendente piuttosto che in autorizzazione del ministero dell'ambiente piuttosto che l'autorizzazione delle tante cose se è un'emergenza e se c'è la capacità di capire che è solo con la prevenzione che noi salvaguardiamo il territorio dobbiamo avere il coraggio che in questi casi si devono realizzare nel tempo più rapido possibile le opere necessarie e questa secondo me è l'emergenza delle emergenze perché poi si può parlare di altro l'avastazione del territorio ci saranno le solite e giuste o ingiuste polemiche ma io rimango allibito cioè nel senso governo da 30 e 30 anni che rappresento le istituzioni non posso salvarmi e dire colpa degli altri no devo dire che o noi iniziamo ad avere una coscienza generale che questo è un paese che va salvaguardato in particolare per tutta la sua oppure non riusciamo più c'è no ogni tre mesi siamo qui ogni cinque mesi a commentare una tragedia però lì secondo me il punto la burocrazia non perché è colpa della burocrazia di un sistema che vede procedure su procedure che dà l'alibi a tutti perché vedrete che ci saranno gli alibi del direttore generale dell'assessore che ma io l'ho previsto di fare cosa posso dire una cosa per essere molto diretto perché commentare ogni volta e dire le altre cose inutile ci voglio citarvi voglio citarvi voglio citarvi